Si passeggiavi e uscessi quel luogo singolare per chiederti in sposa, ti ricordi? Sì, lo so, ti ricordi. Gli occhi tuoi, pieni e puliti e incantati, non sapevano, non sanno e non sapranno, non hanno idea. Non hanno idea delle malefatte che il potere deve commettere per assicurare il benessere e lo sviluppo del paese. Per troppi anni il potere sono stato io, la mostruosa e inconfessabile contraddizione. Perpetuare il male per garantire il bene. La contraddizione mostruosa che fa di me un uomo cinico e indecifrabile, anche per te, gli occhi tuoi, pieni e puliti e incantati, non sanno la risposta. La responsabilità diretta e indiretta per tutte le strati avvenute in Italia dal 1969 al 1984 e che hanno avuto per la precisione 286 morti e 817 puliti. A tutti i familiari e le vittime io dico sì, confesso. Confesso è stato anche per mia colpa, per mia colpa, per mia grandissima colpa. Questo dico anche se non serve lo stragismo per destabilizzare il paese, provocare terrori, per isolare le parti politiche estreme, per rafforzare i partiti di centro come la democrazia cristiana, l'animo definita strategia dell'attenzione, sarebbe più corretto dire strategia della sopravvivenza. Roberto, Michele, Giorgio, Carlo Alberto, Giovanni Mino e il caro Aldo per vocazione o per necessità, ma tutti irriducibili amanti della verità. Tutte bombe pronte ad esplodere che sono state disinnescate col silenzio finale. Tutti a pensare che la verità sia una cosa giusta e invece è la fine del mondo. E noi non possiamo consentire la fine del mondo in nome di una cosa giusta. Abbiamo un mandato noi, un mandato divino, bisogna amare così tanto Dio per capire quanto sia necessario il male per avere il bene. Questo Dio lo sa e lo so anch'io. Questa è la fine del mondo. 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 Questa è la fine del mondo.